Si chiama Magico Natale, ma leggi atmosfera, coinvolgimento, spettacoli e luci. A Fosombrone, Proloco, Commercianti e Comune, quest'anno hanno voluto stupire. Ad accogliere i visitatori nello già di per sé unico Corso Garibaldi, con i suoi portici laterali ed oltre 100 negozi, che invitano ad una passeggiata naturale ad accogliere i visitatori un cielo di 250 lanterne ed oltre 60.000 luci a LED che creano un colpo d'occhio spettacolare. Certo far di meglio del passato, quando già la sticella era ben alta grazie agli effetti speciali dell'Ultrasound 20, era una bella sfida, ma a giudicare dal risultato decisamente vinta. Abbiamo avuto il coraggio di cambiare, un Natale che fin da dieci anni fa era un Natale tecnologico, un Natale che in qualche maniera stupiva, abbiamo optato, anche con un atto di coraggio, a tutto quello che invece è molto più fierbesco, tutto molto più ovattato. È ovvio che la componente dei visitatori che siano attratti da questo è quella che è la base, l'elemento è quello che catalizza tutto e ci fa sembrare tutto più magico. Ma si sa, il Natale è la festa dei bambini per eccellenza e quindi una particolare attenzione è stata messa nel creare qualcosa che fosse anche per loro magico ed unico. Ed allora quale cosa migliore? Di un bosco incantato? 350 metri quadrati di tappeto erboso vero, come sono vere le 25 piante ad alto fusto e poi un albero parlante e semovente per incantare i fanciulli e poi cerbiatti, scoiattoli e tanti piccoli abitanti del bosco. E naturalmente non poteva mancare la casetta di Babbo Natale per le letterine. Come avete visto abbiamo un bellissimo polmone verde all'interno di Corso Garibaldi, il boschetto degli Elfi, più di 250 lanterne, circa 57.000 luci se non erro, quindi che dire, credo che il Natale si senta, si respiri fortemente e sarà un progetto che negli anni andrà sicuramente a crescere e quest'anno credo che abbiamo dato un bel segnale. Quindi dai, l'unione fa la forza e a Fossombrone è tornato un bel Natale, un ottimo Natale.